che puntualmente precisi entrano dietro ai nastri cavalli prossimi partiti gestartet partita l'edizione 2017 per la 63esima edizione gran corsa siepi di verano c'è subito una caduta una brutta caduta sotto le tribune è caduta a terra pena ed è caduto anche champ de bataille cavalli proseguono anche i fantini verranno prontamente assistiti subito un colpo di scena in partenza della gran corsa siepi e allora andiamo a vedere chi va davanti ci va Topin Rochelet il francese con Thomas Boren nei confronti di Chiaromonte terzo e Chicago quarte chi faia poi diplomata a precedere cari rai notti magiche mentre fuori dalla corsa diplomata e champ de bataille sulla prima siepe e la corsa intanto procede con Topin Rochelet il cavallo delle curie de dune che conduce è lui che imposta l'andatura nei confronti di Chicago che ai fianchi Chiaromonte in quarta c'è chi faia con Lukasz Matuszki questi primi quattro poi a seguire c'è diplomata con Gabor Bakos quindi ancora Cari rai Sertas Feranova e a chiudere notti magiche con in sella Josef Bagna cavalli che vanno sulla diagonale Topin Rochelet mantiene l'iniziativa non forza più di tanto e nella sua scia si mantengono vicini Chiaromonte e Chicago quindi chi faia diplomata cari rai notti magiche e allora nessuno va a insidiare la prima posizione che rimane saldamente nelle mani di Topin Rochelet quando i cavalli affrontano in senso contrario a quello abituale la curva di Marlengo secondo Chiaromonte, Josef Bartosz in sella poi Chicago, Ian Cratchoville cavalli che si presentano sotto le tribune e così dopo il passaggio delle tribune i cavalli risalgono sulla seconda diagonale e il grigio francese mantiene l'iniziativa continua a fare il ritmo di gara nei confronti di Chiaromonte, Chicago e chi faia poi diplomata cari rai mentre notti magiche chiude la marcia in coda cavalli che vanno a affrontare la curva non è cambiato lo schema e il ritmo di gara ancora Topin Rochelet è in vantaggio con Thomas Boren nei confronti adesso di Chicago che gli si pone a stretto contatto con Ian Cratchoville i due procedono adesso più vicini tra loro all'uscita dalla curva al completamento dell'otto delle diagonali terzo è Chiaromonte poi diplomata chi faia cavalli che adesso dovranno affrontare il passaggio davanti alle tribune Topin Rochelet subisce una certa pressione esterna da parte di Chicago i due rimangono vicini nel passaggio sotto la tribuna Chiaromonte lì terzo vicino per le linee interne diplomata più a largo poi chi faia si epe delle tribune cavalli che vanno sulla curva di Marlengo Topin Rochelet respinge Chicago che rimane di fuori poi Chiaromonte poi ancora chi faia a largo del quale c'è diplomata poi cari rai e notti magiche a chiudere retto opposta Topin Rochelet adesso gradatamente accelera nei confronti di Chicago che rimane lì ancora alla sella poi Chiaromonte poi chi faia diplomata si epe di metà retto opposta con il grigio Topin Rochelet che ancora leggermente in vantaggio veramente leggero il suo vantaggio nei confronti di Chicago con Chiaromonte con Chicago che salta bene e gli si propone subito all'attacco Chiaromonte rimane terzo chi faia lì quarto a contatto curva conclusiva Topin Rochelet e Chicago i due sono molto vicini sulla siepe all'apice della curva poi Chiaromonte chi faia diplomata notti magiche così sull'ultimo tratto della curva della gran corsa a siepe di Merano addirittura d'arrivo cavalli che vengono in mezzo alla pista Chicago è il primo a dare un attacco mentre è costretto a fermare Chiaromonte addirittura finale con chi faia che filtra all'interno e accelera nel tratto ultimo chi faia accento dal palo risolve la gran corsa a siepe in piena spinta vince chi faia su Topin Rochelet per il terzo notti magiche diplomata in fila poi Chicago e Cari Rai Grazie Grazie Grazie